9 regioni della Russia sono state colpite da diversi droni ucraini, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ci sono morti e feriti tra la popolazione civile, ma i dettagli ancora non si conoscono. Decine di attacchi sono stati effettuati sul territorio della regione di Somme. Gli attacchi hanno colpito la zona industriale di Kstowa, nella regione di Nisninov Garat, dove è scoppiato un incendio in una raffineria del gigante petrolifero russo Lukoil. Le operazioni nell'impianto sono state per il momento sospese, in attesa che l'incendio venga domato. Un incendio è scoppiato anche in una raffineria di petrolio nella città russa di Harol, dopo che due droni hanno colpito un deposito di petrolio. 17 residenti sono stati evacuati da due edifici vicini. Un gruppo di ricognizione per le operazioni di sabotaggio ha cercato di attraversare il confine russo nelle regioni di Kursk e Belgorod. Si tratterebbe di militari russi appartenenti ai gruppi Legione Libertà della Russia e al battaglione siberiano che combattono per l'Ucraina. Tra di loro sarebbero almeno 60 i morti.